A Milano si può studiare per diventare manager all'ASD a Bocconi, la School of Management italiana molto quotata anche all'estero. Da un lato noi abbiamo fatto anni fa una scelta di progressiva apertura verso l'internazionalizzazione che ha premiato. Noi oggi abbiamo il nostro MBA ad esempio con il 75% di studenti stranieri che vengono da oltre 30 paesi. Questo ci ha riconosciuto nei ranking internazionali per il Financial Times. Noi siamo saliti di 20 posizioni in due anni, siamo al 28esimo in Europa, al mondo, al decimo in Europa e il primo in Italia. Abbiamo lavorato molto nel rapporto con le imprese, ecco anche il motivo per cui oggi sono qui e mi fa molto piacere. Tant'è che la Business School ha una consistente attività di interazione con il mondo delle imprese e delle istituzioni. Cito solo qualche numero. Noi abbiamo iniziative di Executive MBA spesso frequentate da manager sponsorizzati dalle aziende. Abbiamo un Executive Education che tra la parte custom e la parte a catalogo vede frequentare nei nostri corsi oltre 10.000-12.000 manager all'anno. E poi abbiamo un'attività di ricerca applicata attraverso osservatori, attraverso studi che è il fondamento della conoscenza che trasferiamo in aula e nelle iniziative in collaborazione con le aziende. Il successo per avere sbocchi professionali interessanti è assicurato, grazie alla forte sinergia con le imprese. Di fatto lavoriamo con le aziende, nel senso che una parte consistentissima della nostra attività è custom, quindi è progettata e coprodotta, se vogliamo, con larghe imprese. I nostri corsi a catalogo nascono comunque sempre da un'indagine che facciamo presso le aziende. Abbiamo un Career Service che lavora con i recruiters per collocare gli oltre 600 tra master specialistici MBA che abbiamo in scuola. E torno a dire, l'attività di diffusione della conoscenza è fatta con un'interazione costante con le imprese. Negli ultimi anni abbiamo una serie di eventi quasi quotidiani con le community. Noi abbiamo la community HR, la community di marketing, la community dei financial controller e quindi è un lavoro costante di sviluppo fatto col mondo delle aziende. Per essere ammessi, oltre a possedere un curriculum eccellente, bisogna essere motivati e superare il test d'ingresso. La qualità di un prodotto master nasce molto dalla qualità dei partecipanti in entrata. Questo vuol dire avere innanzitutto un numero notevole di application che arrivino da tutto il mondo. E poi abbiamo un lavoro molto attento di screening che parte dai test classici internazionali come il GMAT test. E noi li selezioniamo al di sopra di un certo punteggio. Vi è poi un colloquio individuale svolto o in sede o presso i paesi da cui può provenire il partecipante. E un kit di presentazione, questo è un po' un classico di tutte le grandi scuole di management internazionali che prevede lettere motivazionali, referenze, a volte un progetto da poi svolgere sul campo. Consideri che, come dicevo, noi se prendiamo l'NBA che è il prodotto flagship, abbiamo oggi due classi in parallelo, ormai integralmente impartite in lingua inglese. Abbiamo abbandonato la lingua italiana ormai da parecchi anni. 75% l'anno scorso di partecipanti provenienti da 30-35 paesi, dei più svariati. Le prime corti negli ultimi anni sono Stati Uniti, India, Germania, poi Cina e via via tutti gli altri paesi. Grazie a tutti.